Noi siamo interamente dedicate ad accogliere le donne vittime di violenza. Per me le donne che arrivano qua sono delle resilienti. Per poter combattere il fenomeno della violenza c'è la necessità di mettere in campo tante risorse diverse, tante competenze diverse, tantissime realtà. Ora la risposta che vi do è che i centri di violenza esistono e sopravvivono perché le donne si fidano di noi. Guardo l'orizzonte, vedo più in là. Passo dopo passo respirerò Guardo l'orizzonte Guardo l'orizzonte Grazie.